Oggi vediamo una configurazione da circa 1200 euro che permetterà a voi di lavorare in maniera tranquilla e serena con il vostro computer utilizzando applicativi piuttosto impegnativi come Photoshop, Premiere Pro e programmi per l'elaborazione grafica in generale ma anche tutti gli altri tool e software che siamo abituati ad utilizzare Non è quindi una build da gaming ma in realtà con qualche accortezza la possiamo anche trasformare per giocare comodamente con il nostro computer Scopriamo quindi questa configurazione all'interno di questo video prima di cominciare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto seguiteci sul canale Telegram è linkato in descrizione qua sotto e soprattutto per altri video dedicate ai computer, all'hardware sapete già che cosa fare lasciate un like a questo video Il pezzo forte di questa configurazione è sicuramente il processore ancora una volta vado ad appoggiarmi ad AMD e alla nuova piattaforma Ryzen con l'R7 1700 che risulta essere un'ottima via di mezzo in tutta la gamma di processori di AMD offre 8 core fisici e 16 thread virtuali ad una frequenza massima di 3,7 GHz in modalità turbo quindi ci sono prestazioni da vendere nel momento in cui il vostro computer ha bisogno di fare tante cose contemporaneamente con una buona frequenza del processore che stia dietro a tutte le operazioni i processori Ryzen sono un'ottima alternativa a quelli di Intel perché spesso quelli magari sono un pochino più indicati per il gaming e però costano anche un pochino di più con Ryzen si ottengono ottime prestazioni anche nel momento in cui dobbiamo soltanto lavorare con 325€ si porta a casa veramente un ottimo processore che permette di ottenere una build bilanciata, completa e soprattutto molto prestante serve una scheda madre apposita per i processori Ryzen e quindi ci appoggiamo alla MSI B350 Mate costa circa 100€ e ha due caratteristiche per me importanti la prima è la presenza di uno slot M.2 per gli SSD di nuova generazione come quello che andremo a inserire successivamente e soprattutto ci sono 4 slot per le memorie RAM che ci permettono di avere non solo un buon supporto fin da subito ma anche l'opportunità di fare degli upgrade in futuro magari aggiungendo altri due banchi di RAM rispetto a quelli che sono andato a inserire stavolta infatti ho puntato per una questione di costi su 16GB di memoria RAM DDR4 Corsair da 3000MHz non ho preferito 32GB per il semplice motivo che ad oggi le RAM costano davvero tantissimo e si finisce per spendere più di 200€ soltanto per 32GB di memoria RAM ad oggi 32GB peraltro sono anche un po' superflui in molti campi di utilizzo e quindi magari vi consiglierei di aspettare fra un annetto o due annetti aggiungere altri 16GB con i due slot liberi e a quel punto sarete praticamente a cavallo le RAM che ho inserito all'interno di questa configurazione si acquistano circa 130€ sono due banchi da 8GB ognuno e secondo me risulterà essere un mix molto bilanciato in tutta la macchina proprio per le loro prestazioni e la loro capacità continuiamo la nostra disamina andando a guardare altri due componenti di questa build l'alimentatore e la scheda video l'alimentatore ho scelto un modello di EVGA serie GQ da 650W è un semi modulare quindi abbiamo una certa flessibilità per quanto riguarda il numero di cavi che andiamo a inserire all'interno del case e soprattutto ha una particolarità molto interessante c'è un tasto eco che permette di disabilitare la ventola quando non serve e questo significa che solitamente la macchina opererà in maniera molto più silenziosa rispetto ad altri alimentatori che fanno girare costantemente la ventola quando si lavora secondo me e soprattutto quando si lavora nella grafica in questi settori come il montaggio video e altre cose la silenziosità del computer è un aspetto davvero importante la scheda video non è fondamentale nel momento in cui si utilizza il computer per lavorare ma in realtà gioca comunque un ruolo importante per questo ho scelto una Nvidia GTX 1050 Ti configurazione in questo caso di gigabyte o gigabyte che dir si voglia da 4 gigabyte di memoria ram un modello non per il gaming ma per il lavoro perché dico questa cosa? perché tutti i programmi ad esempio di Adobe riusciranno a sfruttare i vari CUDA course presenti sulla scheda video e otterranno quindi dei tempi di rendering decisamente inferiore rispetto all'utilizzo del solo processore o di una scheda video con tecnologia AMD a bordo con una scheda video GTX 1050 Ti si può anche fare un po' di gaming se però il gioco per voi è una caratteristica importante puntate su una almeno 1060 per non dire anche 1070 a salire perché ovviamente non è questa una build da gaming ma come dicevo all'inizio lo può diventare andando a investire un pochino sulla scheda video questo particolare modello ha un costo di circa 170 euro l'alimentatore invece che abbiamo visto prima viene a costare 85 euro due cifre piuttosto accettabili nel complesso di questa build concludo parlando di case dissipazione e storage il case ho voluto scegliere qualcosa che possa essere elegante bello da vedere che possa essere anche abbastanza modulare quindi offra una certa capacità di espansione il Fractal Design R5 secondo me è bello, semplice, pulito e funziona molto bene per quello che deve fare un computer del genere ha due ventole da 140 mm preinstallate che dovrebbero essere piuttosto silenziose e quindi non dovrebbero disturbare la quiete e risulta essere secondo me un case davvero molto interessante anche nel momento in cui lo inseriamo in un contesto ufficio oppure in un contesto studio domestico per il dissipatore ho invece scelto un Noctua pensato per i socket AM4 Noctua ad aria, non a liquido molto silenzioso perché la grande ventola girerà piuttosto lentamente non facendo simili, non facendo rumori dovuti all'alta velocità e in realtà il grosso dissipatore funzionerà in maniera molto passiva tirando fuori il calore dal processore dissipandolo poi appunto con la bassa velocità della ventola questo dissipatore è appunto pensato per i socket AM4 quindi pienamente compatibile con questa build ha un costo di 60 euro e la inseriamo in quel case che abbiamo visto prima che in realtà ha un costo di circa 110 euro due componenti ancora una volta secondo me validi e quando si va a investire su un computer dal lavoro secondo me è giusto puntare su un buon case e su un buon dissipatore proprio per una questione di rumorosità ho voluto affrontare l'argomento storage per ultimo all'interno di questo video sia perché molto spesso le vostre esigenze sono lontane dalle mie quindi il consiglio che vi do non rappresenta effettivamente la vostra realtà sia perché ogni volta che parlo di storage me ne dite quattro nei commenti vi scannate e non ci troviamo mai d'accordo in realtà difendo ancora una volta la scelta principale anche all'interno di questa build di un SSD M.2 NVMe da 250 GB di Corsair altissima velocità, altissima prestazione ottimi tempi di apertura delle applicazioni e ottimi tempi di scrittura dei dati all'interno della memoria ha un costo effettivamente alto di circa 150 euro ma secondo me in questo momento storico siamo a metà 2017 inserire un SSD NVMe può essere una scelta che ci proietta un po' verso il futuro con questo SSD ovviamente non copriremo tutte le nostre esigenze di storage e allora in questo caso vado a mettere ad esempio un secondo hard disk meccanico tradizionale SATA 3 da 2 TB un Seagate Barracuda che costa circa 70 euro e che permette magari di tenere tutti i dati che abbiamo finito di elaborare nel corso delle settimane lì dentro come fosse una sorta di archivio ovviamente le vostre esigenze sono molto lontane dalle mie magari preferite avere un grosso hard disk che funge anche da storage principale quindi volete un SSD da 1 TB e potete investire in quello oppure magari preferite avere tanti hard disk meccanici per fare un backup per fare una configurazione ride e quindi avere tanto spazio a basso prezzo insomma sarà la scelta dello storage quella che permetta a questa build di fluttuare molto di prezzo sia di crescere che di diminuire difendo però la scelta del doppio hard disk con questa configurazione perché con un hard disk molto veloce dove andare a inserire Windows le applicazioni dove andare a inserire il progetto su cui magari state attivamente lavorando più un secondo hard disk più lento e più capiente secondo me si riescono a coprire un pochino tutte le esigenze un pochino tutti gli utilizzi insomma come sempre vi lascio in descrizione qua sotto ho perso la voce per quanto ho parlato tutti i link ai prodotti di cui ho parlato all'interno di questo video invece nei commenti voglio come sempre sentire la vostra opinione in merito ai pezzi che ho scelto se avete qualche suggerimento qualche consiglio qualche critica sapete già che cosa fare lasciatemi un commento nel box qua sotto un saluto al prossimo video per itball.com Andrea Ricci Grazie a tutti